Benvenuti sul mio canale tutto dal web. Come ben sappiamo ragazzi pomeriggio 5 è passato sotto la conduzione di Mirta Merlino che sostituirà dopo oltre 14 anni Barbara D'Urso. In attesa di vedere tornare il programma in onda a settembre il 4 Mediaset ha diffuso in tv il promo e anche sui propri canali social dove vede proprio la nuova conduttrice di canale 5 immediatamente ci sono state tante critiche feroci proprio per la nuova conduttrice Mirta Merlino. In attesa di vederla in azione dal 4 settembre la rete Mediaset sia sui canali social che anche in onda su canale 5 ha diffuso i primi spot pubblicitari e lei infatti si presenta così. Vi porterò con me nel racconto della realtà non vedo l'ora di cominciare e ovviamente giù sotto i commenti tantissime migliaia di critiche ad esempio che errore togliere la D'Urso non c'è Paragone, Barbara D'Urso è pomeriggio 5 e tantissime altre critiche se non insulti, affermazioni che lasciano presagire che il compito di Mirta Merlino di intrattenere ed entusiasmare il pubblico di canale 5 potrebbe rivelarsi più difficile di quanto lei stessa abbia immaginato. Dimmi tu che cosa ne pensi, lasciami un like se ti va e iscriviti al mio canale come sempre io ti aspetto per questo ma per tante altre prossime news. Grazie a tutti.